bella a tutti ragazzi e ragazzi vediamo su un nuovissimo video su fortnite in questo video proveremo a non dico vincere magari sopravvivere ma vediamo 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 cosa devo fare intanto io volevo dire a fabiano ciao ok un po' e 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 apri e 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 presto 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 prest Grazie a tutti. 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 e a tutti.